Presidente, allora tre settimane poi questo sarà il teatro della Fano dei Cesari. Le fazioni come si stanno muovendo in queste ore? Le fazioni sono veramente cariche, in questi giorni ho partecipato a qualche loro riunione, quindi ci aspettiamo sicuramente una grande partecipazione perché stanno riunendo tutte le forze, tutti i vari quartieri si stanno riunendo per creare il meglio che possono. Le sarte sono al lavoro, quindi anzi chi volesse partecipare potete contattare direttamente le quattro fazioni che vi ricordo sono il lupo, la volpe, il cinghiale e il delfino per partecipare a questa sfilata che si preannuncia veramente bella e interessante. C'è stato un grande accoglimento anche da parte dei commercianti che stanno facendo la loro parte? Sì, un altro gruppo di lavoro perché così abbiamo organizzato questa Fano dei Cesari per gruppi di lavoro che sta lavorando veramente bene, i commercianti si sono tutti uniti di fronte a questa manifestazione anche perché hanno percepito l'arrivo di questi gruppi da fuori e saranno veramente numerosi e gli allestimenti saranno veramente corposi. Ci aspettavamo di allestire le due vie principali della città, quelle che abbiamo chiamato Cardo e Decumano, anche se non sarebbe così, via Arco d'Augusto e Corso Matteotti, ma in realtà saranno tante altre le vie che saranno addobbate con questi drappi che scenderanno dall'alto, quindi una città da visitare in quegli ultimi giorni della Fano dei Cesari. C'è grande attesa, grande fermento, anche grande interesse da parte di molti per la notte del sabato sera che si preannuncia essere una grande festa per tutti. Sì, abbiamo pensato a questa bella serata come un evento diffuso, una serata che vuole la partecipazione dei bar, dei ristoranti, delle spiagge, dei vari comitati del lungomare. Gli si chiede di realizzare eventi sul periodo romano, che può essere una cena, può essere un aperitivo, quindi una serata bella accogliente per tutti gli ospiti che quella sera vorranno venire a visitare la nostra città. Il centro storico sarà veramente pieno di questi gruppi storici che la invaderanno e quindi tutti quelli che la vogliono realizzare possono contattare la nostra organizzazione, dirci il nome dell'evento, che cosa faranno, perché comunicheremo con un'attività fatta apposta ecco tutti questi eventi che saranno realizzati nella città. Così nascerà la Notte degli Dei, una serata che sicuramente sarà da non perdere, che si preannuncia molto bella già da adesso. Rivolgersi alla Proloco, naturalmente, diamo riferimenti? Sì, basta rivolgersi alla Proloco, al nostro numero di telefono 339 582 8551, ci chiamate, ci date il nome dell'evento, noi lo inseriremo appunto in un'apposita comunicazione per dire a tutti tutti gli eventi che ci saranno e sarà una serie di eventi diffusi che saranno veramente belli e partecipati.